Siamo stati per 30 e qualche minuto in conduzione della partita. Purtroppo non abbiamo avuto quell'instinct killer che ci ha fatto vincere la gara alla fine. Di questo siamo molto rammaricati. Mercoledì ci aspetta Caserta, anzi noi aspettiamo loro qui. Ed è chiaro che a tre giornate dalla fine del giorno in andata questa diventa una partita molto importante come lo sono bene o male tutte per il tipo di campionato che si sta svolgendo. Noi speriamo di avere tutto a disposizione. Ieri abbiamo avuto in partita qualche acciacco, soprattutto una botta su Acre verso la fine che vedremo adesso come gestirla insieme allo staff medico. Non posso negarla, gli sono molto affezionato e seguo sempre le vicissitudini della società in maniera così partecipativa. Caserta è una piazza che vive di palacanestro, ha un seguito di gente molto calorosa, che sono affezionate alla squadra. Chiaramente ho lasciato tanti amici, oltre che il discorso della Juve Caserta. Credo che sia... È vero che noi siamo professionisti, però allo stesso tempo siamo anche persone, quindi ho dei ricordi molto belli. Intanto vogliamo provare a farla meglio questa partita, pensiamo una alla volta, facendo tutte come fossero le finali, come è stata quella di ieri. Grazie. Grazie.